Quattro partite senza vincere, la prima volta che accade dall'inizio della stagione. Lunedì prossimo il posticipo sul campo del Crotone, che a Verona ha sfiorato il colpaccio. Rosso-blu senza lo svedese Rodien, fermato dal giudice sportivo. Quattro gli ex, Scogna Miglio, Stroppa, Benali e Pettinari. Torna a disposizione Gravion, difficile invece il recupero di Cristiano Delgrosso, che accusa un problema alla caviglia. Calabresi terzultimi in classifica, ma in ripresa. Il ritorno di Stroppa, esonerato dopo nove giornate, è richiamato alla vigilia dell'ultima di andata, sta dando i suoi frutti. Un solo KO ad Ascoli, dove gli squali conducevano per 2-0. Tre pareggi e una vittoria, conquistata lo Zaccheria di Foggia, 2-0. A Verona prova di grande personalità, l'1-1 finale non fotografa con esattezza l'andamento del match. L'espulsione di Rodien, doppio giallo, ha senza dubbio influito. A 12 dal termine, infatti, è arrivato il pareggio di Di Carmine. Migliorata la fase di non possesso, nelle ultime quattro sfide il Crotone ha subito solo due reti. 3-5-2 il sistema di gioco, chiavi del centrocampo affidate ad Ahmad Benali. Da regista, affermato Stroppa, è un fuoriclasse. Pesante l'assenza di Rodien, sarà rimpiazzato da uno tra Molina e Zanellato. Torna a disposizione Simi. I rinforzi del mercato di gennaio, l'argentino Spolli, il croato Milic, ex Fiorentina, il terzino Tripaldelli, gli attaccanti Mashash, ex Carpi, ma di proprietà del Napoli, Mraz e Stefano Pettinari, che lo scorso anno in Bianchazzurro ha realizzato 13 gol. In partite di campionato, l'ex Stroppa non ha mai battuto il Pescara, perdendo tra l'altro le ultime tre partite. Due lo scorso anno alla guida del Foggia, 5-1 e 0-1, una nel girone di andata dell'attuale stagione, 2-1. Mancuso è la bestia nera del tecnico Lombardo, ben quattro reti nelle succitate sfide. Ma la curiosità è legata a Marco Verratti, che non ancora a 16enne, debuttò in maglia Bianchazzurra proprio all'uscita di Crotone. 31 agosto 2008, nelle immagini, prima giornata del torneo di Serie C. Maglia numero 10 e, malgrado la giovanissima età, tante giocate di spessore. Qualche settimana prima il talento di Manopello aveva già deliziato tifosi e addetti ai lavori nel match di Team Cup contro l'Albino Leffe. A lanciare Marco Verratti, Giuseppe Galderisi con Cucureddu, la stagione successiva, 2009-2010, la prima rete tra i professionisti nella sfida con Rimini. Tanti problemi fisici sotto la gestione di Francesco Verratti, realizza il primo gol in via Cittadella nell'ultima giornata del campionato 2010-2011 con Zeman l'esplosione, la vittoria del campionato di Serie B e la cessione al Paris Saint-Germain.